Sì 1 a terra, 1 a terra 1 a terra ciao ragazzi oggi vi porto un game un po strano che abbiamo fatto in warzone praticamente il game in sé per sé è stato un po noioso siamo partiti abbiamo lottato qualche arma e siamo andati a fightare e qui abbiamo incontrato un probabile che ci ha uccisi nel video poi ve lo farò vedere io per sicurezza l'ho segnalato non so se stesse guardando dalla porta per rassicurarsi se ci fosse stato qualcuno oppure perché mi vedeva attraverso il muro ma quando l'azione continua lui spara il mio compagno e quando esco io lo switch è stato un po strano come potrete vedere quindi arrivo in endgame da solo perché i miei compagni muoiono e qui godetevi il video grazie a tutti buona visione ciao convergiamo convergiamo dall'altra parte raggiungo un paio troviamo raggiù tu ha fermati prima però c'eri raggiungo ecco ce n'è uno che sta a perdere il sciacallo proprio ok è andato a un altro punto Blasco si guardi eh io sto qua che devo fare è sceso sono due eh non ho reso bella rega adesso compagno finito nel gulag compagno caduto tornerà alla base coraggio un boccato oh lupi è stato io sei metraglietta qui vuoi luci o l'M4 dimmi luci se ti trovi meglio luci dammi l'M4 se no quale sono tutte due sai mi devo dire che siamo libero nuve che aveva mille di veramente spasato nonostante ho fatto il progetto forno ecco di sbagliare ecco di ecco di no no mitra due non lo so qua mi vediamo avuto l'intedinio eh bello poterlo si è preso il fantasma tu ti hai preso il fantasma te? si per forza perchè non c'è una levità arremetti? che c'è arremetti? io ce l'ho io dalla tavola ho preso mi dirigo qui silenzio di tomba e eccolo non è possibile che stiamo sparando due? tutti e due ci ha ammazzato stanno al centro stanno al centro sta ancora al centro sta ancora al centro non è possibile che stanno andando a fare ma questo è senza avversare vedo 4 minuti e aspettavano che entra guarda guarda ma buongiorno prossimo obiettivo localizzato ho visto tanto un soldo ma ci inseris la parola due mi sembrava che stessi apremmo ma è finita la gip e dove c'è? da qui mi sticano o qua o qua eh si avete un lancio di equipaggiamento in arrivo soldato nemico in arrivo nooo ho fatto la c***a però si ripiena l'evo eh eh l'hai liciato proprio l'hai liciato proprio io non sceglio sta c***a da mia guanta sta qua solo ma non ci faccio la controlla sticca si è buttato stava stancando proprio ma prendi la tip por c***o c***o che venga eh si poi mi sticca c***o che c***o guarda le pippe che c'è stanno porto guarda che c***o guarda che c***o guarda che c***o che c***o che c***o c***o dove sta? oh non si è tolta eh no perchè c***o ancora voi no? eh no te lo faccio i c***o viene uno c***o che c***o c***o ecco c***o che c***o che c***o è ca***o che c***o che c***o che c***o che c***o che c***o che c***o è c***o che c***o è arriva su lei a cui piede io rio è pesato hanno pesato hanno pesato ho messo a terra non lo ha pensato non l'hai visto? l'ho aperta era ssshh hanno pesato l'ho tirato io muovi in tre uabin nemico in volo cazzo lì uno a terra ma che hai preso? ma che cazzo? ma che cazzo? non ce l'ho manco la corazza porco maschera 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 vieni la maschera come sta? si ma senza corazzo è in dove vado riga va lì in mazza restano meno di 10 nemici che cazzo è nativo ma non è partito però cazzo è nativo stanno allo sopra ecco voi lo hai perca pure io che era sopra dovevo buttarsi che cazzo è nativo 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 non è che cazzo è nativo che cazzo è nativo anche l'uomo che cazzo è nativo non arrivo dentro e' qua dalla finestra tutti quanti a cadena si ammazza davanti io ho fatto cazzo in avvicinamento dove sta spostando sta spostando sta spostando siamo finiti che cazzo è nativo nooo sono morto sono morto sono ai safe nooo ho contento di studio oh vi torna oh vi torna vittoria è morto vittoria non ci posso rivelare